Ma intanto voglio esprimere la mia solidarietà a tutti i giornalisti della stampa e al suo direttore Giannini, veramente una solidarietà sentita. La libertà di stampa è da noi essencita dalla Costituzione. E poi mi chiedo però, forse in un certo senso non è una sorpresa che l'ambasciatore russo si sia così inquietato con un giornale italiano che poteva esprimere probabilmente degli atteggiamenti di critica, perché in fondo lui è l'ambasciatore di un paese dove non c'è la libertà di stampa. Da noi c'è, meglio da noi, si sta molto meglio e glielo direi subito questo, anzi glielo dica lei. Grazie.